Battista, Franceschi, è un po' la sorpresa di questa sesta ronda del Valmero, è infatti arrivato, quarto assoluto, dietro ai tre big della manifestazione. Com'è stata la tua gara? Très bene, un super feeling con la voiture, un speciale compliquée con le condizioni, dove è falluto gestire le pneu, abbiamo lavorato in diversi setup e abbiamo potuto evoluire al filo della corsa, quindi contento del risultato, face ai italiani e ai locaux che ruolano molto veloce qui, quindi è una buona esperienza. È bene per lui, molto difficili le condizioni climatici, un po' asciutto, un po' brutto, e lui è molto contento di aver finito dietro le tre molto veloce di qua, dunque è un bilan un po' più di positivo per una prima volta qua. Pensi di tornare a Corrè? C'è un po' più di più di un'Italia? J'espère. Speriamo? Speriamo. Ok, grazie. Grazie. Grazie a tutti.